Ehi bella a tutti ragazzi, prima di iniziare il video saluto 5 di voi che dovevo salutare In questo video saluto il Bomber Game, saluto Alessandra, Santa Lucia, saluto Super Brawl e saluto Giuseppe Rallo Saluto RPG40 e in finale saluto Leonora Liciata Io vi saluto e che devo dire ragazzi, buona visione Ehi bella a tutti ragazzi, sono Volcan3, oggi siamo in un video ragazzi speciale Oggi siamo in un video speciale, oggi andiamo a reagire a dei funny moments Prima di iniziare il video ragazzi non diventatevi di lasciare un like, iscrivervi e commentare con scritto saluti Perché per scratching di voi nel prossimo video li saluterò ragazzi, condividere con i propri amici Scusate per la mia voce ragazzi, sono veramente addormentato Ragazzi che devo dire, iniziamo il video e let's go boys Ok boys, siamo qui con il video ragazzi, condividete il video con i propri amici Con i propri amici che avete, fatevi guardare questo video ragazzi Io parto ragazzi nel reagire il video e let's go boys Ok, vediamo lui Si avvicino al campfire No way Ma com'è morto raga Ma com'è morto No raga, no raga Oh way, questo qui che build Vediamo, 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 vediamo Scusate un minuto Ma cos'è ragazzi Ma cos'è C'è l'utility la povera No raga No cos'è E la madonna 275, è normale? Normale Ci sta Quest'altro Nel taxi Cioè ma io Io pensavo che nel taxi non potevi prendere danno Nelle macchine non potevi prendere danno Cioè come minchia è possibile Cosa ho appena visto Strapigliante Ragazzi l'ho scettato a volo Mio dio raga No non ditemi che lo tricca a volo Non ditemi che lo tricca a volo Vai Piccone Sedi piccone Niente proprio lì E la madonna Triccato zio No god No god No No Ma cos'è Ma cos'è Noo raga Nice Non ho capito da dove è uscito quello lì raga E la madonna Ma questa è da infame raga Noo raga Chi è Vuoi fare il tricca No raga ho fatto anche questa cosa è veramente tricca Per l'avversario Malissimissimissimo No raga Non c'è No raga No no Le cose della benzina sono veramente stronze Vediamo che fa No raga Come vincere proprio easy Siente l'apple che è forte Il mobile non c'è più Ma cos'è Ma cosa raga vola Ma cos'è Che li Ok Come Come Mi dovete spiegare come Ragazzi Tirato la granata in bolso sui piedi E è morto lo stesso Ma come cavolo è possibile C'è un 17 Clappato Ok Questo è da pro Ma cosa sto vedendo No Questa cosa è bastardissima Ragazzi È bastardissima Una banana Banana nuda No povero raga Si è bagato le bouncer No raga Mi è capitato a meno una volta nella scorsa season Sia Splashato Si splesha Si splesha ancora 5.000 punti in arena Non male Che culo raga Qua ho avuto culo Come Ragazzi È finito qua il Fortnite Funny moment Ragazzi È finito qua il video Spero che il video vi sia piaciuto Vi abbia divertito Perché cose assurde sono successe In questo What the fuck moment Si dice così raga E Raga per questo video Un bel pollicione in su Un'iscrizione perché è nuovo Con camerellina Mi raccomando Perché la camerellina è importante Che non si scrive con la camerellina Non è un real fan Non è un real fan Ragazzi Ragazzi Seguirmi su Instagram TheWalk23 Su Instagram E TheWalk23 Su TikTok Ragazzi Non solo Per essere salutati nel prossimo video Condividete questo video Con più amici possibili Vi dire che non è stato divertente ragazzi Io vi saluto Date qualche tutto Ci vediamo alla prossima Peace Bye Ciao 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 Ciao